Ciao a tutti, sono Alessio19870, altro gameplay di Resident Evil 6, via! Adesso mi trovo in una specie di caverna, devo andare avanti per trovare Deborah, via! Ecco la caverna con l'immondizia, è che schifo, la luce, un vaso, munizioni, ok, vediamo un po', niente, andiamo avanti, vedi, trova Deborah! Perché non mi racconti tutto? Perché probabilmente non mi crederesti, ecco perché voglio che tu la vedi, e quando la vedrai, avrai le risposte e le prove che ti senti. Mmm, dell'acqua! Questa è una palude! Oh, è che! Un telone! Abbassarsi, boom! Un ponte! Oh! Scendere, ancora! Un emblema! Un vaso! Munizioni! Niente, andiamo avanti! Un altro vino al laboratorio! Un altro vino al laboratorio! Mmm! Quello con la tua amica? Già, che lei è successo? Ascoltami, se cerchi risposte devi essere pronta anche a offrirsi! Hai proprio ragione, mi sembra giusto! Infatti! Andiamo avanti ancora! Uh, ecco uscita! Dei vasi! Punti! Munizioni! Qui non c'è niente! Ah, devo scendere! Aha! Una specie di percorso! Ma qui non si passa! Niente! Di là! Un vaso! E no! Sto zombie di merda! Uh! Grazie! Vaso! Punti! Andiamo avanti ancora! Un cancello! Un cancello! Boom! E... Eccola! Debora è lei! Boom! Scendiamo! Un cancello! Parto il filmato! Debora! 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 Mi senti? Debora! Elena! Grazie al cielo! Il pigiama! Qua! Ok! Basta con i misteri! Eh! Che diavolo sta succedendo? Portiamola fuori da qui! Poi ti dirò tutto! Te lo ripeto! Ok! Porto il salvo Debora! Su! Tieni duro! Prenditi cura di lei! E lascia venire! Che succede? Debora! Ah! E' sua sorella! Non si capisci dal trailer che ho visto! Ok! Uh! Un'erba verde! Sta un po' male! Erbe verde o due? Andiamo avanti! Oh! Uno zombie! Eee! Beccati questo! Uh! Bellissimo! L'ho buttato giù dal ponte! Con una spinta l'ho buttato giù! Occhio! Cazzo fai tu! Eh! Zombie! Eddi! Questo! Bello! Con la mannaia! Va! Punti! Ehi! Cazzo fai! Boom! Boom! Calcio! Bellissimo! Boom! Oh! E che cazzo! Andiamo avanti ancora! Lì, lì, lì! Lo c'è col vaso! Checkpoint! Ok! Andiamo avanti ancora! Ma che? Il tetto cede Infatti Correre, correre, correre Oì Bello col colpo rapido Un è caduto E tu? Non sei caduto Adesso si Boom, è caduto a terra Paso, munizioni No, vedete Eccolo zombie Ma che cazzo? E che cazzo? Boom Bellissimo calcio Uh, perfetto Ah, ma vaffanculo Boom, bellissimo Beccati questo Punti Andiamo avanti Vaso Punti soltanto Adesso voglio le munizioni Fanno scendere di qua Prima che crolli tutto Via, via, via Vaso Ok, andiamo avanti Prima che crolli tutto Sennò Checkpoint Io, Elena, dove siete? Non individuo la vostra posizione Che diavolo sta succedendo? Eh No E mi trovi una caverna Un altro vase Che aveva preso le cartucce prima Punti e basta Uh Buttare Via questo cassone Vai Ok, adesso di qua Punti abilità Un vaso Perfetto Erba rossa E non c'ho spazio No E ti porta Con presse Oh, cazzo Ehi Oh, di ciao Arrivederci Non c'è Oh, cazzo Uh Bellissimo Punti Erba rossa La prendo Ehi Allora, combiniamo Erba verde Con erba rossa Sei Oh Così si ragiona Ho nove compresse Sono altri zombie Eh, vaffanculo Dove cazzo mi ha tirato quel vomito? Dove sei? Dove sei? Dove cazzo è? Non lo vedo È meglio scappare Eccolo Vedi questo Di ciao Arrivederci Ok Ok Doi, doi Bomba controllo remoto Non so che cazzo serve Non lo so Non so che cazzo Cazzo serve Non lo so Che succede? Caricamento Ma sono arrivato Che patto ho filmato Che succede? Debora Ci siamo qua Ma cosa? Debora Vieni tu Uh, brucia No, Debora No Aia No Una crisalide? No Non è possibile No Che schifo Che schifo Cos'è c'è fuori? E lei? Oh mio dio È come il filmato Della cassetta Oh cazzo No 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 La balestra Che spara Uh Chi è stato? Eccola Uh, è lei Ada Sembra che tu abbia visto un fantasma No Eh 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 In latime Ada Che diavolo sta succedendo qui? È complicato Cosa? Ovviamente si rivedono faccia a faccia Da risentivo il quattro che non si vedono Non è niente È un posto giusto Eh Infatti Le passerelle non reggeranno Andiamo ai livelli inferiori Eh Mi dispiace Debora È tutta compatibile Oh cazzo Sconfiggite Debole Aia Ho capito quale è il suo punto debole Quei cosi gialli Una cazzata falla fuori Oh Ehi Ho filmato Eeeh E che crollo Eeeh Mamma mia Mamma mia Che botta Cioè che poi No Ieada e Ena Di là Debole Dove sei? Non so dov'è Di ascendiamo Uh Due vasi Combarossa e munizione Ma certo Ma certo Salta Bellissimo salto Filmato Qui Un anello Un anello Non farti strana idea Più tardi capirai Eh Ok Munizioni Ma che serve con l'anello Non lo so Seguiamola Ecco Un visito di rosso e nero Punti Salto Eccola Ma è scesa giù Boom Seguiamo il percorso Boom Eccola Eccola Tira su Ok 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 Vai Salto Eccola E Debole Eh ci ha presi No Vai attenzione Eccola E' questo TNT esplosivo Barine esplosivo Anche qua Punto Debo Sui cosi gialli Come Dead Space Per eliminare i zombie Ma no Cazzo Oh Boom Uh Bellissimo Calcio Batte Uh Alla faccia No 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 Eh no Accidenti Continuo E' molto forte Di quanto Pensarsi Mi parto da qua Attenti Vuoi due E' forte Vuoi due Eh Ecco Cosi gialli Doi colpire Sì Bello Ahia Non avvicinarti E' come E' come Come il boss Di Resident Evil E' come Veronica Come Alexia Stessa colpato di Alexia Se hai il minimo Di compassione Per me E' eliminato E' un lino Non può essere Eh purtroppo si Uh Esplosivo Devo colpire No No Ma che Accidenti Accidentaggio No 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 Io lo corre anche Abbastato Zombie di merda TNP No E' salitamente Sparato Esplosivo No Bomba Controllo Remote Mostre Bombe Devo usare Uh No 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 Ecco Ahia Compressa Compressa Una colpita Perfetto Un esplosivo L'esplosivo 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 cos'è occhio occhio che si trasforma dov'è eccola colpita la testa o occhio questo zombie di merda e brava Elena posizione oh colpito e vai creata incendiaria oh hanno sparato fatto un filmato e cadono di nuovo sotto boom posizioni punti punti e mi serverebbe verde cazzo Anna Elena un aiutino eh sì punti punti devo scendere ancora ma che oh ecco questo zombie si dite ciao arrivederci altro vaso guardate incendiaria si crolla tutto oh oh punti continua a scendere ah che ancora oh scendiamo 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 correndo oh colla ancora oh oh punti munizioni perfetto c'è qualcosa qua? no scendiamo oh dei vasi punti no l'elba verde mi serve per combinar quella rossa uh zombie beccati questo uh e questa manovella un attimo i vasi munizioni munizioni ah un attimo di munizioni perfetto eccole là giro la manovella c'è ancora 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 ok eccole là arrivo come filmato ripartono a bordo si oh no con contagio eh no e che cazzo no e che sfortuna eccola fermati decora tu non sei così eh così e si butta giù oh eccola boom investita oh cazzo no 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 ma che cazzo eh che duro accidenti ok ok eccola ti vedo no ma che sfortuna ah è fattile coltaccio ok spara i barili ok ho quattro compresse ma che cazzo ne avevo otto prima poca discesa uh ce l'ho fatta finalmente un'altra un'altra ancora oh finalmente uh no ma che culo ok scrivato ancora no sconfiggi Deborah oh il barile esplosivo si oh no 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 oh occhio uh filmato centro aia boom ancora bam che botta ma è orribile allora diventiamo Ada ecco il boom no fucile precisione e no aspetta si colpita no e cadono ma no e cosa devo fare colpire Deborah ma che cazzo partiamo da qua boom cade il cassonetto boom Ada di lì lei era di là con sua sorella oh mio dio allora gli diamo Ada per prima cosa e poi spariamo a lei a Deborah che cazzo oh colpita si e vai prende sangue no eh no boom che succede colpito Debo e poi filmato la prende no eh finché non ti avrò vendita eh aia ti prego ti prego perdonami e la lascia andare no perché trasformate in un motto orribile la lasciate andare gliela farò pagare a chi eccole 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 eccolo chi è no 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 lasciate andare ehi eh 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 boom ah colico l'anello quel bastardo non sapevo così lo ha aiutato ah quello stronzo ho aiutato Simons a superare la sicurezza del presidente sono proprio tipico di Simons perché farebbe una cosa simile è una lunga storia vediamo se quello è un palmare dobbiamo affrontare i poteri che governano davvero il paese eh in una partita molto pericolosa e se non giochi bene le tue carte si eh e scappa beh le tue carte boh Leo dove sei? Simons è lì si Hannigan devi stare a terra credo ci sia lui glielo l'ho tinto è il mio oh eccolo lo stronzo e lui oh fine capitolo 2 e vai scheletri nell'armaglio un altro trofeo e vai ecco salvataggio piastine di riconoscimento risultati del fine capitolo 2 ok però mmmm i risultati si avanti 23.300 puntabilità corazzi 28.000 per livello 2 qualcosa posso mettere no ma mettere scippatore aumenta la possibilità che un nemico faccia cadere un oggetto ma questo c'è un oggetto scorta cartucce ma questo è mettiamo scippatore qua questa vita dove esce il patore? ecco qua equipaggio ecco qua possibilità aumenta la possibilità che un nemico faccia cadere un oggetto ok 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 va bene così corazzi livello 1 livello 2 qua c'è 28.000 poi cartucce cambio 12 e 12 e scippatore ok rimane bene così queste tre cose andiamo avanti vediamo un po' che succede vediamo un po' che succede a un po' che succede cosa intendi eh beh saprete sent altro che siete entrambi sospetta dell'attacco ma va al momento dell'attacco aveva abbandonato la postazione lasciando il presidente indifeso converrà con me che è un comportamento sospetto figlia di puttana come stai tutta opera tu e che prove a sostegno di questa oltraggiosa sì eh il mio lavoro è prevenire gli attacchi melodistici eh non scattiare sei un bugiato eh ognuna gente siete così convinti della vostra innocenza eh non avrete alcun problema a costituiti ma vai affanculo giuro gliela farò vedere ecco sembra che le cose qui vadano di male in peggio eh già purtroppo sì caricamento salvataggio quindi devo andare di qua ok quindi aspetto salvataggio fatto prima giusto quindi eh che cavolo quindi mi fermo qui quindi vi dico che finisce qui il gameplay di Resident Evil 6 quindi un ciao da Alessio 2019 870 al prossimo gameplay quindi ciao Grazie a tutti.